Io ero italiano, guarda, ti dedico due minuti. Vabbè, innanzitutto lui cosa fa? Fa dissing con personaggi più importanti, no? C'è roba o podcast, così attrae iscritti. Questo è un vecchio metodo, ma non è questo il punto. Il punto è che ha 11.000 iscritti e si lamenta che non ha visualizzazioni. Io mi lamenterei dei tuoi contenuti, di cosa parlano i tuoi video, cosa vuoi rappresentare, la società italiana, la società romana, non lo so. Parli come ha fatto una sigaretta. Una sigaretta la apri, la vedi. Come rimorchiare una donna? Basta parlare a una donna se la vuoi rimorchiare. Che video sono? Non sono video, non sembrano video banali. No, sono, secondo me, video banali. Avrai un pubblico di affezionati, non so, di gente... Come si chiama? Dai, quello che dice il vostro youtuber preferito, gli spippolatori, gli spippolatori da tastiera. Poi voglio dire, questi clickbait ripetuti che fai, fai solo clickbait, 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 clickbait. Non è il modo per fare lo youtuber, è una persona che fa contenuto, che aggancia alla notizia di cronaca contenuto, ok? Oppure dovresti parlare di più notizie, come fa sottoscritto, che cerca anche le notizie più nascoste, più non prendi la prima pagina del giornale e la sperci che in prima pagina. Questo non è fare lo youtuber, ok? Poi ti reputi un conoscitore italiano. Se dici che conosci VIP, ma non ho visto una foto con un VIP, o una foto con un VIP, hai fatto un'ospitata, in una radio vent'anni fa, buona. Non lo so, mi sembra molto lacunoso questo personaggio che tu hai creato. Poi ti lamenti che non ti guarda nessuno, ma io mi farei un esame di coscienza, mi guarderei allo specchio. Cioè direi, forse non è il caso che faccia lo youtuber. Magari, boh, io ti consiglio di fare il cameriere, di fare lo spazzino, di fare il libraio, non so, magari studiando un po' di cultura, riesci con la cultura, sai, la cultura accende delle lampadine. Addirittura accendi qualche lampadina, e capito, la cultura ti può illuminare. Magari riesci a fare, non so, una bicicletta, riesci a fare uno yo-yo, riesci a fare un guinzaglio da cane, riesci a fare una pistola d'acqua, capire? Una pistola d'acqua, così vai a giocare ad osti, i macchinetti, bam, 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 bam.